Torniamo a parlare del grande evento di sabato 12 giugno dalle ore 18 e 30 presso la suggestiva location del Conero Golf Club di Sirolo. Stiamo parlando della prima serata di gala organizzata dall'associazione Zafferano Marchigiano, protagonista La Spezia. E allora ne parliamo con lo chef Elis Marchetti, presidente dell'associazione Zafferano Marchigiano e anche lui grande protagonista di questa serata. Sabato 12 giugno alle 18 e 30 inizia questa meravigliosa serata in cui come protagonista avremo lo Zafferano. L'associazione Zafferano Marchigiano vuole raccontare grazie ad una cena, ad una bellissima serata, quello che è lo Zafferano nelle Marche. Questo oro, questo oro che racconta e porta un'eccellenza in tutto il mondo grazie ai produttori, grazie ai chef che lavorano, ai maestri, ai direttori e anche a tutto l'apparato turistico che per l'appunto grazie allo Zafferano possiamo far arrivare qui nelle Marche tantissimi turisti. La cosa bella cosa sarà? Sarà uno show cooking, uno show cooking che vedremo come lo Zafferano incontra il mal tagliato prodotto proprio a Campofilone qui nelle Marche insieme ai prodotti dell'Adriatico, quindi la vongola, la cozza o il mosciolo come meglio dire quando parliamo di Presidio Slow Food e avremo una carrellata di antipasti, una serie di antipasti dove lo Zafferano tocca appena ogni pietanza, ogni portata, un bel primo, un bel secondo e un dolce a base di Zafferano dove tutto è protagonista, non si parlerà solo di Zafferano ma si parlerà anche di territorio. Quello che abbiamo, la cosa bella, è creare sinergia, quindi potremmo abbinare un lanice di Castignano con lo Zafferano, potremmo abbinare un salume allo Zafferano come i grandi formaggi prodotti nelle nostre terre, quindi tanta sinergia, tanta collaborazione e poi tutto l'apparato scientifico. Quindi l'abbiamo coinvolto, siamo riusciti a coinvolgere un comitato scientifico che raggruppa le varie università, i vari enti, compresa l'Assam e dove si farà ricerca, quindi faremo anche dal 2018, da 20 anni fa addirittura si parlava di Zafferano già all'Università di Camerino, quindi tanta 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 roba come diremmo in Ancona. Concludendo con una battuta, se avessimo un tesoretto da parte, secondo lo chef Marchetti, cosa dobbiamo comprare? Mezzo chilo d'oro o mezzo chilo di Zafferano? Ma il chef Marchetti sicuramente è sempre lo Zafferano perché è il mio mondo, la cucina chi mi conosce lo sa, per chi non mi conosce sono ormai oltre 20 anni che dedico la mia vita alla ristorazione e al mondo della cucina e all'eunologia. Con lo Zafferano riusciamo a trasmettere dei profumi, degli aromi, delle rotondità sul piatto incredibili, cose che magari con altre spezie più pungenti non riusciamo a fare. Abbiamo visto, abbiamo fatto tanti test, l'abbiamo abbinato già a tantissimi piatti e vediamo che ogni volta, anche quando meno te lo aspetti, reagisce in maniera eccellente, Gregia, quindi sempre solo Zafferano.